buongiorno federic buongiorno a tutti siamo qui in diretta incredibilmente su twitch credo ragazzi credo siamo ancora su twitch non ci siamo spostati dunque siamo sempre noi e oggi 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 cosa si farà è stato già annunciato le foto che scorrono sono le foto del campionato regionale siciliano 2021 che ha visto vincitore ovviamente non ha sorpresa me stesso e dunque questa la storia e oggi analizziamo le partite dunque oggi c'era un'analisi dunque chi vuole potrà fare domande meglio se le domande siano sensate è questo ecco praticamente questo detto questo abbiamo raccontato praticamente tutto la maglietta che vedete la maglietta di un forte giocatore del 16 chi catania vedete abbiamo la maglietta bianca con le strisce rosse maglietta molto di classe il logo del club creato da salvatore santagati ricordiamolo e dunque questo è un po' il discorso grazie mille federic perché non parte l'audio però non è partito l'audio forse abbiamo la cassa disattivata c'è federic che giustamente ha puntato tutto sull'audio che aveva mandato che aveva un audio lunghissimo e qua non gli diamo la soddisfazione ci scusiamo ci scusiamo ovviamente però adesso faremo partire l'audio appena possiamo nonostante un audio che sentiremo solo noi e federic che siamo gli unici live per la mia pagina adesso aspettando alert box questo è sabbo no? si sabbo iscritti no iscrizioni ma sarebbe il club test to speech vediamo qua ma comunque se qua lo fa da più uguale no? lo riobbiamo eh posso? e no forse qui è di sandino come solito in questa diretta non funziona la mazza al nostro giustificazione c'è il fatto che si è aggiornato il programma da solo dunque magari potrà essere qualche impostazione è stata cambiata di default è girata più sotto secondi facciamo che ne so 20 vai prova 20 30 30 secondi poi è troppo ah metti 25 26 26 20 fatto? e rifare? ricarica? no non parto qua niente ce ne faremo una ragione ragazzi comunque il messaggio era io amo il sommo io amo il sommo io amo il sommo io amo il sommo oh 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 faccina che sorride faccina che sorride no aspetta faccina che partorisce che non so neanche cosa sia la faccina che partorisce dunque vabbè diciamo che vabbè comunque il messaggio era abbastanza chiaro abbastanza diciamo mirato dunque lo ringraziamo Federic allora ciao Paolo benvenuto io lo sto molto bene sono qui oggi per analizzare le mie super partite del regionale assoluto 2021 regionale ricordo Sicilia cioè anzi il regionale più importante sicuramente d'Italia ma probabilmente anche del mondo perché voglio essere modesto e dunque voglio comunque sia dare anche spazio ad altre regioni del mondo fuori d'Italia e magari potrebbero anche quasi avvicinarsi ma ma che c'è nessuno torneo e l'indio torneo e no perché forse il link vecchio e dunque bisogna sistemarlo e no e e e dunque questo è un po' il discorso diciamo l'analisi partiranno alle 16 ci siamo avremo puntuali dunque se fra esempio avrete qualche domanda c'è il tag di lesione del mitono spinato ma che tag è? che ne so fatela adesso magari c'è più spazio per rispondere allora Fede che dice c'erano un paio di ragazzi del mio circolo in quel torneo quindi ho visto qualche sua foto fatta da loro e di quale circolo parli? c'erano che favorà di quale circolo parliamo? ah circolo monrealese ok ok si c'erano i ragazzi c'erano due ragazzi molto bravi giovani cioè ragazzi o ragazzi o ragazzini in base all'età che siamo ganci che giocano molto bene hanno fatto anche dei buoni risultati credo che il più piccolo vi ho reso anche un premio credo un premio di categoria adesso non ricordo esatto si giocano molto bene dunque promettono sicuramente bene poi di altri non non so se c'era qualcun altro perché allora allora comunque la sede era molto carina si è giocata a minazzo diciamo che una bella cittadina una bella sede di gioco il palazzo d'amico in cui soggiornò Garibaldi nella sua fatidica impresa dei cosiddetti dei mille diciamo ecco e a Milazzo si svolta anche un'importante battaglia del risorgimento proprio tra i Garibaldini e le forze borboni che difendevano Milazzo e dunque fu il centro di una delle battaglie diciamo probabilmente più importanti che si svolgono in Sicilia dunque un luogo importante anche a livello anche a livello strategico vediamo se la schecchiera funziona ops devo mettere in pausa ok tutte le foto abbiamo sulla schecchiera comunque questa è la nostra schecchiera tra l'altro siamo pronti clicco di nuovo appaiono le foto incredibile che tecnologica ci prendiamo un tasto c'è la schecchiera prendiamo un altro tasto ci prendiamo le foto ce lo voglio dire boh cioè che dove le vedete queste cose ciao devede che la non confonda con Davide che devede dunque non è che qualcuno adesso me lo legge Davide ma Davide ciao Davide benvenuto cioè scusa Davide benvenuto e si l'urlo però non lo diciamo perché qua stiamo facendo scacchi dobbiamo in qualche modo beh certo grazie Paolo per averlo precisato però è ovvio cioè nel senso dov'è che trovate questa tecnologia questa classe c'è queste cose assolutamente cioè ragazzi riclicco tanto pepe che voglio cliccare e vi appare adesso la foto dunque poi se clicco vi apri un'altra foto cioè ragazzi ma che ah ecco vi apri un'altra foto tra l'altro questo è il primo premio una scacchiera diciamo artigianale molto carina questo è l'albo del torneo e poi poi niente vale comunque ragazzi lo tolgo qua perché parliamo di scacchi parliamo di scacchi il torneo che ho giocato era composto da sette turni e il primo turno mi viene opposto a Antonello Cusmano che è un giocatore seconda categoria nazionale con elo 1.4 e 72 e no c'era solo la scacchiera non c'erano dei pezzi era diciamo più di altro una scacchiera ornamentale non è fatta per giocarci su una scacchiera ornamentale non la mette in soggiorno tanto per far vedere che ha vinto regionale insieme a tutti gli altri trofei che uno vince quando viene qualcuno ha vinto una cosa tanto per niente ecco comunque detto ciò questa è la prima partita contro Antonello Cusmano la seconda della decola nazionale in cui io gioco da bianco dunque la mia partita inizia con la spinta e 4 dunque decido di giocare di re c6 dunque caro can d4 d5 cavallo c3 diciamo semplicemente per sviluppare il pezzo e difendere 4 presi in e4 presi in e4 alfiere f5 cavallo g3 alfiere g6 diciamo la prima mossa che merito a un commento concreto è cavallo h3 la mossa che ho giocato alla mossa 6 merito a un commento concreto perché giocando cavallo h3 diciamo l'obiettivo è quello di sviluppare una strategia dove il cavallo da h3 andrà in f4 e dunque andrà in qualche modo a creare pressione sull'alfiere e dunque la logica è quella di provare o ad indebolire la struttura del nero o magari anche raggiungere una posizione dove abbiamo noi la coppia degli alfieri o due alfieri contro alfieri e cavallo diciamo o coppia alfieri contro due cavalli questo è un po' la logica del gioco si la mossa qui più famosa diciamo è la spinta h4 che ha l'idea di poi giocare h5 espandere il stato di donna ed eventualmente giocare alfiere poi d3 però si ci possono fare ben tante cose io qui ho scelto cavallo a credere con la logica che vi ho appena menzionato il nuovo gioco di 6 cavallo f4 seguendo un po' la logica di gioco alfiere d6 e qui h4 h4 crea una minaccia in pratica crea una minaccia e la minaccia è che ovviamente il pelone può andare in h5 e dunque se il pelone è mai in h5 chiaramente crea un problema perché l'alfiere a quel punto deve andare via e non è che abbia tutta questa libertà sostanzialmente dunque diciamo con h4 si pone un problema per risolverlo probabilmente deve mangiare il mio cavallo in pratica perché mangiando il mio cavallo diciamo io devo riprendere magari lui riesce ad avere una via di fuga se giocasse h6 facciamo un esempio pratico se giocasse h6 sarebbe un grave errore perché io mangio a quel punto l'alfiere lui deve rimangere di pedone questa struttura donale è davvero pessima per il nero perché 6 e g6 diventano debolezze importanti su linee aperte o segna aperte e il red nero ovviamente non è messo benissimo dunque il problema è che h6 non è realmente praticabile perché indebolirebbe troppo la propria posizione dunque lui decide di cambiare io riprendo con l'alfiere h6 dunque cosa otteniamo da questa fase iniziale d'apertura abbiamo sostanzialmente ottenuto una posizione di leggero vantaggio dato al fatto che con cui si è giocare con i due alfieri contro alfiere e cavallo è sicuramente leggermente preferibile però ripeto si tratta di leggero ho anche leggerissimo vantaggio in questo caso dunque nulla di particolarmente significativo beh lo sviluppo si un po' di più ma non non in maniera diciamo drastica comunque il nero facilmente può fare cavallo f6 a rocco dunque si forse un pizzico in più ma non non in maniera significativa detto ciò si va avanti e qui io gioco alfiere cing non ho messo un po' dubbia ma semplicemente perché non è necessaria potevo andare avanti con h5 e poi alfiere 2 allora è una posizione di piano in pratica io ho giocato alfiere 5 perché tendenzialmente il mio piano era quello di attaccare sul lato di re e dunque sapendo un po' questa logica ho giocato alfiere 5 per fare questo però in realtà era anche possibile per il bianco e forse anche un po' più facile giocare giocare h5 lui deve muovere alfiere per forza alfiere 2 qual è l'obiettivo qui qual è il piano qui il piano è di arroccare corto comunque e di giocare eventualmente sul lato di donna in che modo magari giocando mosse con alfiere f3 c4 e puntare più sulla sinistra il vantaggio di questa diciamo di questa strategia è che comunque il nero da un aurale contro gioco e in qualche modo è costretto a giocare molto molto bassivamente semplicemente per bloccare le nostre le nostre manose ecco diciamo qui è un gioco più a senso unico e per questo è favorevole al bianco ah c'è una domanda di federi che chiede cosa ne pensa in questa posizione di alfiere d3 allora si la puoi giocare ma in realtà non conviene perché solitamente quando hai una posizione dove hai più spazio ti conviene evitare i cambi dove qua la logica del bianco è che è meglio non cambiare perché si è vero che il nero l'ha mostrato tante volte quell'alfiere però alla fine non giocando alfiere d2 e poi magari alfiere f3 in un futuro ci riserviamo il fatto di tenerci alfieri e di puntare da questa parte comunque in questo caso considerando che il piano è attaccare solo di donna questo alfiere in h7 non è importante invece se l'obiettivo era attaccare sul lato di re magari poteva avere senso perché quello alfiere in h7 potrebbe essere un difensore importante diciamo questo dipende molto dal piano in base al piano un cambio può essere favorevole oppure oppure no allora la partita contro Kuzmano lo vedete è iscritto in alto il nome dei giocatori dunque abbastanza agevole da notare e allora dunque detto ciò andiamo avanti alfiere 2 ci si usa alfiere 2 è la variante però ho giocato alfiere 5 scusate ho giocato alfiere 5 cavallo f6 h5 sempre noti di attaccare sul lato di re prendo prendo spazio guadagnando anche tempo perché il nero è costato amore alfiere alfiere h7 alfiere d3 alfiere per d3 donna prende in d3 cavallo d7 f4 l'idea di f4 è di rinunciare all'alfiere cioè io rinuncio all'alfiere che è solitamente un po' più forte del cavallo però in cambio avrei un pedone molto forte nei 5 e dunque questo è un buon un buono scambio diciamo lui mangia io mangio df perché chiaramente voglio anche avere le linee sul lato di re il nero gioco cavallo d5 io gioco cavallo e4 cavallo e4 con l'obiettivo di liberare il pedone per attaccare rompere la sostituzione da questa parte lui gioca rocco io gioco rocco lungo e magari per spingere mi è utile sia mettere dal sicuro sia eventualmente la torre che possa aiutarmi lo gioco regina e7 g4 con l'obiettivo già dichiarato di poter fare g5 f6 torre in g1 e su torre g1 lui prende gioca b5 e su b5 prendo qui lui mangia di cavallo diciamo è costretto a farlo g5 su g5 il nero commette un errore diciamo decisivo cioè già la posizione comunque è abbastanza compromessa però che lui commetterà qui è decisivo diciamo che l'unico modo per resistere in questa posizione per il nero è cercare di difendersi e una tecnica classica per difendersi è quella di cambiare i pezzi dunque potrebbe giocare cavallo per e4 per esempio al che il bianco può rispondere con regina per e4 presa e poi h6 il nero ha momentaneamente un pedone in più però c6 è in presa il sole è messo malissimo g5 è debole g7 anche 6 è debole dunque diciamo che una posizione in cui il bianco ha chiaro vantaggio però ancora per vincerla ci vuole sicuramente del tempo il mio avversario invece è giocato subito preso in g5 e questo permette di entrare col cavallo rendendo la posizione vinta che dopo h6 apro la posizione con due tori con due tori scusate con due tori cavallo e donna non c'è assolutamente nessuna difesa e dunque donna e8 h6 g6 qui arriva diciamo una tattica tutto sopra abbastanza semplice da parte mia cavallo per e6 tattica semplice perché se mangia il cavallo se mangia il cavallo c'è matto subito con donna con donna g7 e chiude la partita se non mangia comunque minaccio la tori minaccio g6 dunque lui gioca la tori f7 donna per g6 poi dopo cavallo g5 giustamente abbandona perché chiaramente minaccio di catturare la tori con matto a seguire e non c'è praticamente alcuna alcuna difesa questo è un po' il succo della partita diciamo a rocco lungo beh si è possibile roccarsi lungo però forse qui no perché io minaccio subito a cavallo di6 dunque il problema è che dopo che io gioco cavallo e4 la rocco lungo non è più praticabile perché se lui non la rocca subito io posso fare subito cavallo di6 dunque in realtà non c'è il tempo di farlo ciao catio benvenuto beh si dai ovviamente vittoria da parte mia come giusto che sia diciamo come come la giustizia vuole sostanzialmente ecco no cioè come come giusto che sia e e niente questo è un po' la prima partita del torneo tutto sommato ci sono degli spunti interessanti il tema dell'attacco con la rocca e la geni con i pedoni e poi qualche elemento tattico tutto sommato abbastanza abbastanza semplice e si probabilmente non deve prendere l'alfiere cioè magari qua anziché giocare presa deve fare qualche altra mossa però comunque se c'è l'alfiere non può non può roccare dunque dovrebbe dovrebbero avere dei problemi allora ragazzi la partita qualcuno mi chiedeva un certo salvio la partita con Federico Virga che tra l'altro è la seconda del torneo dunque è quella che viene dopo dunque la vedremo adesso però ci tengo a precisare non tanto ecco ragazzi ci tengo a precisare non tanto perché la chiesta salvio che ringraziamo per il commento ma noi non ci diamo a nessuna richiesta che voglio precisare questa cosa che voglio che sia chiara la vediamo adesso solo perché è la seconda partita del torneo ecco dunque dopo questa precisazione diciamo importantissima andiamo a vedere la seconda partita che è proprio quella con Federico Virga un ragazzo bravo di Palermo seconda categoria nazionale che con cui ciao locio benvenuto e dunque andiamo a verla subito il bianco scusate io la ruotiamo la schiacchiamo dal mio punto di vista allora dunque andiamo avanti d4 e d5 c4 e 6 dunque diciamo una partita di donna grabetto di donna rifiutato e il bianco gioca all'occhiere che logica per aumentare la pressione cavallo F6 cavallo F3 alfiere B4 diciamo alfiere B4 è la prima mossa che merita un piccolo commento diciamo è la classica inchiodatura che potrebbe portare ad un cambio alfiere per cavallo voglio ricordare che il cambio alfiere per cavallo di solito ha senso solo se otteniamo qualcosa di solito se indeboliamo la struttura o se il cavallo avversario è particolarmente importante dunque magari qua se lui giocasse subito a 3 io lo cambio perché gli impedono i pedoni e perché li rendo disuniti dunque avrebbe sicuramente senso questo è un po' la logica questo è un po' la logica il grande chest chiede domanda fuori contesto noi gli rispondiamo la stessa anche perché oggi siamo buoni o forse siamo vicini al Natale mancano solo pochi mesi l'ombrellone di epoca diciamo finice dunque le anfore di epoca romana e l'ombrellone di epoca finice dunque detto ciò passiamo avanti lui gioca il donna c2 donna c2 io rispondo con c5 dunque cerco di pressare di attaccare il suo centro e3 prende in d4 il bianco riprende in d4 e qui gioco a rock quando abbiamo una situazione del genere è importante stare attenti ai possibili cambi di pedoni cioè uno deve prevedere in anticipo che i pedoni 10 possono essere cambiati se questi pedoni vengono cambiati a quel punto il pedone d4 che sarebbe questo rimarebbe isolato cioè se io per esempio adesso cambiassi in c4 per esempio e lui rimangia il pedone d4 rimarebbe isolato questo è un fattore da un lato positivo per il nero cioè per me ma dall'altro potrebbe essere anche negativo cioè il fatto l'elemento positivo è che il suo pedone è da solo è dunque più facile da attaccare l'elemento negativo è che comunque il pedone gli dà più spazio più controllo e i suoi pezzi sono meglio sviluppati dunque si cominciano dei pro e dei contro io prima di mangiare aspetto c'è a rock se lui poi giocasse magari il fiere di 3 a quel punto lo faccio perché così almeno ho fatto la stessa cosa però ho una mossa in più da fare in pratica questo è un po' la logica e dunque faccio a rock mossa molto flessibile il bianco gioca a 3 e qui decido di cambiare b per c3 e dunque ottengo una struttura migliore però io gli ho dato l'alfiere per il cavallo questo è un po' la logica la logica diciamo del cambio in questione donna c7 ah dunque c'è salvi che compagna le scuole di ferrico virga bravo dunque c5 a questo punto dopo c5 abbiamo una mossa importante che chiedo a voi ragazzi vi chiedo anche le mosse oggi sono particolarmente buono vi chiedo anche la mossa dunque ditemi che mossa dovrebbe fare qua in nero vediamo un po' cosa dice il pubblico però c'è un sondaggio anche più importante in questo momento però mi dicono dalla regia che c'è qua anche un sondaggio più importante credo che abbia Federico 14 anni suppongo credo o 13 o 14 se non mi sbaglio penso e si è dato 14 il sondaggio più importante vi chiedo vi piace questo format a me piace il sommo lo preferisco su hot tub che non so cosa sia si interessante sono qui per caso non so giocare a scacchi dunque ah qua c'è qualcuno mi chiede Katio mi chiede ma stai copiando un atto scacco oppure la domanda non so io neanche cosa faccia un atto scacco dunque non ho idea di cosa stia parlando allora ah Paolo Pasi suggerisce alfiere d7 the grand chess b6 mi piace spingere ne5 quindi cavallo c6 allora guarda qui facciamo un ragionamento interessante diciamo dobbiamo capire prima dove dobbiamo concentrare la nostra attenzione in quale area della scacchiera e in pratica qua dobbiamo concentrare la nostra attenzione sul lato di donna perché abbiamo più controllo secondo me perché comunque il bianco da questa parte ha anche maggiori debolezze dato che l'obiettivo è attaccare sul lato di donna la mossa la mossa la mossa in questione e b6 salvi mi chiede conosce gli ogganci si ma tra l'altro l'ho già pure detto cioè salvi se tu vieni scusa io devo fare un dissing contro salvi ragazzi mi dispiace ma lo devo fare cioè salvi ma tu se ti colleghi alle dirette in ritardo io già ne ho parlato ho detto che gli ogganci è un bravo giocatore tra l'altro di moreale credo ne ho parlato perché fede che mi ha detto che pure di moreale dunque diciamo che c'era questa affinità però ragazzi colleghiamoci tre ore prima nella diretta noi vi volete collegare noi vi volete collegare diciamo alla fine voglio dire cioè scusate va bene detto ciò detto ciò ricapitolando vi sei la mossa migliore perché perché siccome voglio attaccare sul lato di donna siccome voglio attaccare sul lato di donna a quel punto e a quel punto che succede che giocando b6 lui diciamo che è costretto a catturare se no perde un pedone dunque a questo punto il lato di donna è aperto e dunque possiamo attaccare sulla colonna c magari in c3 o la colonna a in a3 ora qualcuno mi potrebbe dire sì però c'è anche il pedone b6 che è debole è vero però di solito se noi siamo più forti sul lato e noi siamo più forti solo di donna ci sta che ci manchia qualche debolezza per attaccare le debolezze avversarie cioè è più importante creare debolezza nell'avversario che non averle nel nostro diciamo l'importante è non indebolirci sul lato di re diciamo perché noi sul lato di re vogliamo rimanere solidi sul lato di donna vogliamo attaccare questa è la logica allora fedele che mi chiede perché la catena penale è appunto sul lato di donna allora solitamente per capire dove attaccare facciamo riferimento a 4 elementi principali vantaggio di spazio attività dei pezzi linea aperta debolezza dell'avversario dunque qua aglio di spazio diciamo consideriamo i pedoni il problema è di 5 a controllo su e4 su c4 dunque un po' più orientato sul lato di donna le debolezze sono c3 e a3 e dunque diciamo i miei pezzi sono comunque più orientati sempre sul lato di donna avendo i pezzi un po' più di spazio anche le sue debolezze sul lato di donna punta nel lato di donna però non sempre dipende solo da come sono i pedoni cioè spesso è così ma non lo è al 100% allora a just e qualcos'altro cioè ragazzi non fatevi questi nickname però non si possono neanche leggere cioè just eh comunque vediamo just poi se c'è un altro just e si è creato l'altro nickname just qualcos'altro non ci interessa noi lo chiediamo just sono affari vostri ok comunque just ma non avendo pedoni che possono andare a donna che senso attaccare da quel lato qual è la minaccia e ragazzi la minaccia è che noi attaccando per esempio questo lato di donna vogliamo ottenere vantaggio materiale cioè magari la pressione che noi riusciamo a creare su questi pedoni può portarci a due risultati o al guadagno materiale cioè magari lui attaccando il pedone non riesce più a difendere lo guadagniamo ipotesi 1 ipotesi 2 attaccando il pedone lui lo difende però nel difenderlo lui deve giocare in maniera molto passiva deve bloccarsi i suoi pezzi non riesce a fare nient'altro se riusciamo a paralizzare i pezzi adversari attaccando una debolezza magari poi in futuro possiamo creare un altro fronte grazie al fatto che i suoi pezzi sono passivi dunque diciamo per farla breve o otteniamo magari vantaggio materiale o riusciamo a paralizzare i pezzi adversari in entrambi i casi sono obiettivi strategici importanti chiaramente stiamo parlando sempre di livello di giocatori che non commettono grossi errori non è già un giocatore che ha 1.6 1.5 anche 1.4 feed solitamente difficilmente vi regalerà dei pezzi in partita e dunque b6 c per b a per b alfiere d3 e alfiere a6 ora alfiere a6 una mossa importante tra l'altro ho scoperto che pure nuggleshort mi ha copiato la mossa giocando nel 2017 cioè ragazzi c'è nuggleshort che mi copia le mosse avendo visto nella partita nuggleshort nel 2017 l'ha giocata cioè incredibile cose dei pazzi e comunque nuggleshort perché non so ad essere un grande maestro inglese molto molto forte molto quotato e nulla dunque perché ho giocato alfiere a6 qual è la motivazione qual è il motivo di questa mossa buongiorno a boss se ormai quali siamo boss just li chiamo solo boss just e basta non mi permette di dire il nickname completo vabbè ad escare l'avversario non so cosa intende Paolo in maniera particolare mi sembra un po' allora dunque eliminare la batteria del allora c'è una delle varie varie ipotesi interessanti allora sicuramente l'alfiero vale di più del nostro alfiere il nostro cosiddetto alfiere cattivo perché si va a scontrare con i nostri pedoni e dunque questo diciamo un problema che ha il nero in questo caso e per questo motivo diciamo il cambio di base è favorevole al nero perché un alfiere vale meno per un solo alfiere che comunque vale tendenzialmente di più potenzialmente pericoloso anche sul mio sul mio area dunque questa è la prima ipotesi voglio cambiare l'alfiere cattivo mio per l'alfiere buono suo e questo è utile poi come aveva detto anche salviu è utile anche per attaccare la debolezza perché togliere il pezzo che diamo tiene sotto controllo le case vicine la debolezza è utile per rendere più facile l'attacco in futuro e qui c'è anche un'altra idea che mi è venuta in mente in partita che è importante un'altra idea strategica da non sottovalutare è il tema di poter giocare alle volte con un pezzo leggero forte nostro contro un pezzo leggero debole dell'avversario dunque può essere anche molto utile può anche essere utile per noi capire qual è il pezzo leggero più debole per lui ecco in questa posizione secondo voi qual è il pezzo leggero più più debole quello che gioca peggio per il bianco potendo i pezzi leggeri sono i alfieri cavalli intendo quando parlo di pezzi di pezzi leggeri esatto dunque bravo sia Federico che salvio diciamo che il pezzo leggero debole è l'alfiere in c1 perché è l'alfiere cattivo che si può difendere questa debolezza ma che è davvero pochissimo gioco dunque diciamo che la mia mente già da qui già dalla mossa siamo alla mossa probabilmente 12 ha in mente potenzialmente di raggiungere una posizione in cui magari ho il cavallo contro il suo alfiere dunque tendenzialmente sappiamo che se io cambio per esempio i alfieri e il mio cavallo b8 con quell'f3 per me va bene perché poi vado a giocare in una posizione in cui ho un pezzo leggero forte contro un pezzo leggero debole questo è un po' la logica della posizione è importante perché questo già ci dà un idea su cosa vogliamo fare e altra cosa importante è che quando noi giochiamo sul lato di donna di solito non ci servono tantissimi pezzi cioè noi non abbiamo bisogno di tantissimi pezzi come può essere con il tecchimire dunque solitamente cambiare i pezzi ci può essere utile ovviamente se i cambi sono a nostro favore dunque proseguo con arocco torre c8 per attaccare il pedone lui gioca giustamente alfiere b2 cavallo c6 riduppo i pezzi a questo punto cambio gli alfieri la regina prende e cavallo a5 cavallo a5 perché andiamo a bloccare la casa c4 così da fissare la debolezza beh a noi non ci interessa molto andare con la regina in f4 perché il nostro obiettivo come ho detto prima è attaccare c3 a3 dunque non è che voglio attaccare il re io voglio attaccare i suoi pedoni dunque non mi interessa andare con la regina da quella parte almeno non per il momentum due cavallo a5 ora qui ho metto una piccola di imprecisione perché ho un po' forza di fretta giocando subito cavallo c4 che è una mossa logica in base a quello che abbiamo detto prima perché ovviamente il piano potrebbe essere quello di giocarci una partita con un pezzo leggero forte contro un pezzo leggero debole e questa mossa va a accelerare questo processo però magari potrebbe essere meglio per me fare cavallo e4 e poi eventualmente fare cavallo d6 per portare l'altro cavallo in c4 così che quando lui cambiava mettevo direttamente un forte cavallo subito qui e questo sarebbe stato maggiormente favorevole per il nero qui ho giocato cavallo c4 cambio prendo di donna presa presa di torre f3 f3 chiaramente per evitare il mio cavallo possa facilmente andare su e4 f8 nel finale dobbiamo rendere anche il re partecipe dunque attiviamo il re f2 b5 b5 un piccolo errore perché permetto torre b1 alfiere c1 magari l'alfiere riesce a liberarsi un po' era più precisa per me magari giocare subito magari cavallo d7 per esempio poi re7 re3 cavallo e8 cavallo d6 torre c8 domanda perché il nero qui giocatore c8 qual è la logica di questa mossa in questo caso specifico diamo una notizia precisa dell'idea perché bisogna sempre quando vediamo le partite andare a capire bene le motivazioni cercare di sforzarci di capire perché quel giocatore ha fatto quella mossa per realmente capire il succo del discorso dunque perché il nero qui ha fatto il ruotore in c8 quale potrà essere la sua motivazione concreta esatto bravo sia salvo che a magno scarsen che che dicono giustamente che serve per evitare alfiere c1 cioè noi vogliamo che questo alfiere rimanga passivo vogliamo che questo alfiere rimanga qui in b2 e il giocatore c8 non permettiamo il fiore c1 esattamente dunque g4 re e7 h3 re in f6 altra domanda simile re f6 perché il nero giocare f6 quale potrebbe essere la sua motivazione vediamo che riesce a scoprire la motivazione precisa perché ci sono due motivazioni in pratica che fanno sì che il nero giocare f6 ho due motivazioni importanti sì una motivazione è tendenzialmente quella però c'è anche un'altra importante da cogliere ok però quando noi giochiamo in pratica noi dobbiamo già prevedere che l'avversario in qualche modo cerca di bloccarci dunque sappiamo che se noi portiamo se noi facciamo re f6 per fare re g5 l'avversario ovviamente non ce lo permette perché lo può impedire cosa potrà giocarli per impedirci e da lui giocherà h4 dunque io sapendo che lui comunque farà h4 che senso ha fare ad f6 se l'avversario può bloccarmi no c'è un'idea più sottile adesso vi spiego il tema è il seguente io faccio re f6 che solo non fa nulla ma do g5 come ho detto voi attaccare i pedoni dall'altra parte sono sguarniti dato che sono impegnati dal lato di donna e quello che avete detto è corretto dunque va benissimo però io so che lui ovviamente mi bloccherà perché farà ovviamente h4 il principio importante è che nei finali se lui è alfiare di campo scuro e mette i suoi pedoni su casa scura mi dà diciamo un vantaggio cioè il fatto che i suoi pedoni siano su casa scura fa sì che si blocchi sempre di più dunque io gioco questa mossa apposta perché voglio lo voglio indurre o a farmi passare o a mettere i pedoni su casa scura e dunque fare h4 diciamo che è costretto a fare sostanzialmente e dunque torno indietro forse avrei potuto fare anche subito h5 però sì forse anche questa era possibile ho giocato re7 torre c1 ora questa è una mossa logica però un po' in dubbio perché forse è un po' troppo frettolosa lui mangia giustamente qui deve mangiare per forza perché se spingesse mi permette quello che dicevo prima avrebbe tutti i suoi pedoni su casa scura che sarebbero davvero pessimi perché dopo cavallo f5 diventa davvero complicato difendere tutto dunque lui giustamente mangia in h5 torre h8 gioca bene giocando torre g1 che è una mossa precisa e qui sbaglio io qui sbaglio io perché avevo pensato una cosa interessante la mia idea era di fare l'f8 perché proteggo il pedone poi mangio h5 e mangio anche h4 perché il mio calcolo era se su rf8 lui gioca torre g5 faccio f6 su f6 deve andare via e poi mangio il pedone e poi con cavallo f5 mangio l'altro pedone e per me questa posizione va benissimo tuttavia sono messo una mossa tutto sommato simpa carina che l'ho vista subito cioè nel senso appena ho fatto l'f8 quindi sono reso conto che lui aveva una mossa forte che è a4 e lui giustamente fa la gioca ed è una buona mossa un monza che vince di pedone per attivare i suoi pezzi perché giocando a4 l'alfiere può andare in a3 2 qui in questa fase il bianco è molto resisto gioca bene si difende bene e io devo prendere di torre lui ripangia io mangio di pedone alfiere a3 re e7 ora qui probabilmente avrebbe dovuto subito cambiare alfiere per il cavallo perché il mio cavallo è più forte del suo alfiere e secondo me se avesse cambiato subito avrebbe avuto qualche chance di patta a mio avviso dopo torre per g7 questo finale tutto sommato è ancora da giocare però ha buone probabilità di riuscire a difendere il bianco dunque magari potrebbe essere anche patta per lui se lo gioca bene da parte sua l'errore è di giocare invece torre per g7 che è un errore perché mi permette una mossa importante qual è la mossa importante e qui gioca il nero considerando che il cavallo per il nero è un pezzo importante che possibilmente vogliamo vogliamo mantenere perché la forza è il cavallo forte contro l'alfiere debbo dunque se io perdo il cavallo forte è chiaro che perdo gran parte del mio vantaggio esattamente RF6 è fondamentale perché grazie RF6 attacco la torre non può mangiarmi il cavallo deve togliere la torre a quel punto cavallo c4 ora abbiamo un finale che si sarebbe forse anche difendibile ma è molto complicato difendere per il bianco diciamo che il cavallo forte è molto difficile di gestire lo giocatore a uno per tenere l'alfiere difeso mangio il pedone mangio l'altro pedone e rientriamo in un finale in cui abbiamo pari materiale tre pedoni contro tre pedoni cavallo contro l'alfiere torre contro l'atore però direi che già da qui il finale direi che è vinto per il nero perché posso forzarlo a spingere il pedone su casa scura altra cosa importante cioè il fatto che il suo pedone siano su casa scura fanno sì che il suo alfiere sia davvero molto molto limitato e questo finale è vinto perché io ho la possibilità di attivare il cavallo di avanzare col re e alla lunga qualche pedone cade anche perché il pedone f4 è debole ed è isolato dunque la partita davanti con cavallo d6 dunque il cavallo lo porti in e4 per poter attaccare il punto c3 lui gioca alfiere e3 torre in h2 alfiere d2 cavallo in e4 cavallo in e4 e alfiere e3 torre h3 torre h3 perché ovviamente inchiodiamo l'alfiere minaccio cavallo per c3 reper c3 torre per e3 dunque minaccio già qualche idea tattica e lui per difendersi giocatore in a3 che mossa dobbiamo giocare qui con il nero questo è un po' la domanda che dobbiamo farci ah qui abbiamo una mossa molto forte che è cavallo d6 cavallo d6 è molto forte perché ovviamente con cavallo d6 minacciamo torre per re per cavallo c4 e prendiamo la torre dunque guadagniamo un pezzo o minacciamo semplicemente cavallo c4 e torre per e3 a seguire dunque la minaccia sia torre per e3 ma la minaccia anche cavallo c4 e questo rende cavallo d6 fortissimo vincente c'è qui fasce adesso da vincere perché il bianco deve giocare torre a1 per difendere l'alfiere cavallo c4 torre 1 è forzata f5 lui è presente in zuzu anche se non può muovere nulla se non fare torre 1 torre 2 all'infinito e qui si guida facilmente con cavallo per e3 torre per e3 re per f4 deve anche cambiare le tori forzatamente e il finale è facilmente vinto perché la strategia è facile f5 f4 f3 f2 f1 donna e il nero vince vince la partita e qui chiaramente la partita è facile da vincere dunque il tema crucial il tema principale della partita è solo nel tema del pezzo leggero forte contro quello debole cavallo contro alfiere e la cosa interessante è che ciò poi va fino nel finale dove pur se a parita di materiale il finale era praticamente vinto per il nero questa è l'idea l'idea carina si anche perché comunque la partita ha giocato bene nel senso comunque il 1680 ha giocato discretamente ha creato anche dei problemi dunque sicuramente è stata una partita interessante andiamo alla terza partita nella terza partita che è contro Massimo Ticomi che è un candidato maestro io qui è il bianco e turno 3 dunque entrambi eravamo a 2 punti su 2 a punteggio pieno e io gioco D4 nella partita nella prima partita ho giocato E4 che ho giocato D4 dunque abbiamo un po' un po' variato in base anche agli avversari e in questo caso dopo D4 è praticamente D5 gioco alfiere in in F4 dunque il sistema di Londra C6 E3 donna B6 ciao nonno ciao nonno benvenuto donna B2 la minaccia e dunque gioco donna C1 allora quando gioiavo la vostra come donna C1 è comunque sempre importante avere in mente un piano e no qui non si può lasciare il pedone perché se lasciano il pedone poi non abbiamo salti di cavallo cioè solitamente su posizioni simili il pedone B2 si potrebbe anche lasciare vi faccio un esempio pratico per farvi notare la differenza se per esempio il nero giocase C5 quando gioca come 3 e il nero fa donna B6 qui ovviamente potrei anche lasciare il pedone perché il cavallo incomincia a creare minacce su D5 e B5 però la logica del nero la logica del nero di giocare C6 è proprio quella di rendere concretata la sua minaccia perché adesso il pedone è realmente minacciato dunque se non lo difendo lui se lo mangia ed è finita lì dunque non posso lasciare il pedone in questo caso e questo è l'elemento favorevole per il nero l'elemento sfavorevole è che ha meno spazio con i pedoni e dunque minaccia solo il pedone B2 minacciando solo il pedone B2 io lo difendo anche agevolmente con un AC1 che è una mossa apparentemente un po' passiva però è utile perché la sua mossa ripeto è utile solo per uno scopo e dunque io basta che blocco quello scout insomma lo risolvo il problema devo avere in mente una strategia la strategia che ho in mente è quella di giocare C4 e poi C5 e l'obiettivo di fare C4 e C5 è quello di attaccare sul lato di donna questo un po' è l'obiettivo alfiere F5 dunque gioco cavallo F3 prima e poi C4 dunque seguo un po' l'idea che ho detto prima E6 secondo voi cosa avrò giocato qui in questa posizione? beh sì in realtà al posto di donna C1 poteva essere anche giocabile B3 dipende poi come vogliamo anche gestire la partita però sì B3 poteva essere un'altra opzione possibile non era non era sbagliato cosa avrà giocato ma il bianco seguendo un po' la strategia che vi stavo accennando esatto seguendo un po' l'oggio che dicevamo prima chiaramente C5 per prendere spazio sul lato di donna e a quel punto B4 dunque ovviamente supportiamo il pedone del pedone B4 per rendere chiara l'idea di andare sul lato di donna ora su alfiere 7 del nero qui è importante capire che mossa gioca il bianco abbiamo un'altra mossa molto importante dello strategico sono proprio curioso di sapere chi chi tra di voi si si dico proprio voi la trova questa mossa questa idea e nel frattempo che voi la trovate faccio una piccola pausa di un minuto e dunque mi raccomando trovate la mossa strategica del bianco e mi dovrei spiegare anche il motivo non voglio una risposta a caso ma voglio spiegato bene il motivo grazie a tutti Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ci sono molti giocatori che votano per cavallo d2, anche cavallo f2, cavallo bd2, penso ad a4b5 prendere spazzolato di donna, pedone b5, io porto il cavallo in d2, ho anche il cavallo d2, bla bla bla. Salutiamo a Ondra che è appena arrivato, cavallo h4, ok. Allora vediamo perché questo è interessante, pochi di voi hanno colto la mossa ragazzi, pochi di voi hanno colto la mossa ed è importante questa mossa che vi sto per dire. Diciamo che negli skype bisogna fare dei ragionamenti passo passo per così dire. Dunque in questa posizione il bianco vuole attaccare sul lato di donna e questo è abbastanza palese in base a come abbiamo spinto i pedoni in come si sono sistemati i pezzi. Il punto dell'attacco sul lato di donna è un attacco comunque lento, non è che noi abbiamo qualcosa di immediato per cui vinciamo la partita. Dunque si tratta tutto di costruirlo bene, piano piano, cercando di capire quali pezzi ci servono e quali no. Nel caso specifico dobbiamo capire che per attaccare sul lato di donna un pezzo molto importante che ci serve per avere un buon gioco, qual è secondo voi? Quale può essere un pezzo molto importante per sviluppare un attacco sul lato di donna? Sì vabbè anche il cavallo però un pezzo secondo me particolarmente forte è questo alfiere secondo me, cioè perché se vedete questo alfiere qui, cioè davvero copre B8, C7, D6, cioè copre realmente tante case importanti. Cioè il nostro alfiere teoriamente è cattivo, però in questa posizione specifica pur se tra il goletto è cattivo perché noi abbiamo i pedoni su casa scura, è un pezzo che è importante. Forse anche il più importante è l'alfiere campo chiaro nell'ottica della nostra pressione sul lato di donna. Dunque siccome noi sappiamo, cioè comunque possiamo capire che quello alfiere campo scura è importante e questo ci fa capire anche l'importanza di non andare troppo per categorie. Non è che l'alfiere buono o quello cattivo, cioè non è che l'alfiere cattivo è sempre cattivo o quello buono è sempre buono, dipende dal piano. Dipende dal piano e siccome dipende dal piano e siccome io voglio giocare sul lato di donna, quell'alfiere campo scura è importante. Allora cavallo per fingere a farlo rientrare? No, perché in pratica è il punto che lui potrebbe fare cavallo H5 in futuro, cioè devo fare come dice just H3. Dove fare H3 perché con H3 su cavallo H5 posso tranquillamente ritirarmi. Però ci tengo a precisare che H3 la faccio perché il mio obiettivo è attaccare sul lato di donna. Se il mio piano fosse un altro magari non è detto che la stessa mostra avrebbe senso. Dunque questa è un po' la cosa fondamentale. Il nero gioca a Rocco. Noi giochiamo alfiere su E2 perché diciamo ci sviluppiamo i pezzi. Perché ripeto non abbiamo fretta di fare B5 o A4 perché non c'è nulla di immediato. E dunque comunque avverete al sicuro ha la sua importanza per evitare, non so, magari mostre come scacchi in A5 o simili. Cavallo D7, a Rocco, cavallo E4, cavallo D2. Dunque andiamo avanti con lo su, cavallo per D2. Grazie, non non avevo per il sub. E su cavallo D2, qui abbiamo due possibilità. Io ho fatto quella sbagliata in questo caso, io ho preso di cavallo. Poi vi spiego anche il motivo perché ho sbagliato. In realtà era meglio prendere di donna. Allora, non vediamo perché è meglio prendere di donna e poi vi spiego perché ho sbagliato. Era meglio prendere di donna perché sulla presa di donna il punto che poi possiamo andare avanti con magari A4, B5 e attacchiamo subito in pratica. Cioè, ci riusciamo subito a rompere sul lato dove volevamo rompere, tra virgolette. Questo è un po' l'obiettivo. Invece, con la mia mossa, permetto al nero di avere controgioco su E5. Cioè, se per esempio prendevo di donna, rivediamola, e lui giocava uguale, cioè lui giocava alfiere F6, in teoria io avrei potuto anche giocare alfiere D6 e poi B5 subito. Con idea magari B per C, B per C, alfiere A6, alfiere B7, cercano di pressare sul lato di donna. E perché questo? Perché il cavallo avrebbe, diciamo, bloccato in parte le sue vene espansionistiche, diciamo. E allora, questo è un po' la questione. Ah, poi ci sono i classici haters di Pondra che mi accusano che non si parla ma di Ciccola. Qua facciamone solo scacchi. E' da sempre l'unico canale al mondo che fa solo scacchi, ragazzi. Dunque, diciamo le cose come stanno. Ecco, mettiamo i puntini sulle I. Allora, dunque... Allora, dunque, a Rocco, diciamo, cavallo D2. Cavallo per cavallo, cavallo per cavallo. Dunque, il mio errore è perché è un errore? Perché in pratica gli permetto più agevolmente di contraattaccare centralmente. Un principio importante è quando attacca uno sul lato, l'avversario vuole contraattaccare al centro. E dunque, giustamente, l'avversario qui gioca bene perché gioca alfiere F6. E poi contraattacca centralmente con E5. Dunque, giocando in maniera molto... molto precisa. E... io gioco Torre 1 per avere un po' di difesa sull'alfiere che non era controllato. E per D4, E per D4, cavallo F8 e a questo punto B5. Dunque, vado avanti con quello che è il mio obiettivo, cioè attaccare sul lato di donna. Cavallo E6, donna D2. Perché, diciamo, ovviamente mi serviva difendere il pedone. Donna D7, prendo, prendere H2. Alfiere G5. Ora, qui c'è una mossa interessante da vedere. Su Alfiere G5 o qui faccio F4. Ci ho pensato parecchio perché avevo paura di una mossa che però poi ho visto non era pericolosa. Adesso c'è una domanda difficile. Su F4, di quale mossa mi sono preoccupato particolarmente? Questa è un po' la domanda. Cioè, secondo me che mossa il nero potrebbe giocare? Che sembra interessante ma che però poi alla fine è sbagliata. E sì, sono comunque tutte le partite ovviamente difficili. Perché comunque, cioè, sono tutti i giocatori che giocano bene. Sì, si gioca sui piccoli dettagli. Esatto, però a Federico avevo un po' paura inizialmente di Donna per D6. Perché, a dire la verità, io ero molto, tutto sommato, molto sicuro di me. Perché ho detto se fa Alfiere G5 faccio F4, Alfiere deve andare via. Però poi dopo quando l'ha fatta mi sono reso conto che poteva fare anche Donna per D6. Che, teoricamente, gli permette di guadagnare un pedone. E mi costringe a calcolare il finale. Mi sono messo lì a calcolare una decina di minuti. Ho visto che effettivamente il finale era a mio favore, nonostante il pedone in meno. E dunque alla fine ho fatto tranquillamente F4. Vediamo però meglio questa mossa. Se lui giocasse, ad esempio, Donna per D6. Che era la mossa di cui mi preoccupavo. Che in realtà però, vabbè, io ho messo il punto in interrogativo e sbagliata. Il bianco può prendere. Cioè, no, non può, deve prendere ovviamente la donna. E lui mangia in F4. Dunque, da questa combinazione tattica, il nero ha preso un pedone. Dobbiamo vedere che il nero ha 6 pedoni, non abbiamo 5. E muovo il bianco adesso. Io però ho calcolato che potrò fare poi alfiere A6. Con cui minaccio alfiere B7. E il problema è che oltre a minacciare alfiere B7, minaccio anche torre F1. E dunque minacciando contemporaneamente cavallo C5, alfiere B7 e torre F1, anche se ho il pedone in meno, è ovvio che lo riprendo con gli interessi in pratica. E dunque, una volta che ho visto questo, mi sono rassicurato e ho fatto F4 senza grossi problemi. Però inizialmente non l'avevo, non l'avevo vista. E dunque, questo un po' è l'idea. Dunque, F4, donna perché sei sbagliato, lui non l'ha fatta, ha giocato giustamente alfiere A7. E no, alfiere per F4, perdo un pezzo, rimangio l'alfiere. E dunque, alfiere per, donna per, alfiere F3, perché voglio evitare che l'alfiere vada in E4. Torre E5. Torre E5 minaccio l'alfiere. Qui, se no, era meglio l'alfiere G6. L'ho giocato l'alfiere E4, che è un errore perché mi permette di guadagnare un pedone. Io prendo, riprendo, riprendo di Torre. E qui ottengo il vantaggio, che, diciamo, ci rassicura un po', e comunque il rompedone in più fa sempre piacere. E a questo punto, lui cerca di pressare un po' giocando G5. Tutto sommato è logico, perché quando si è in svantaggio di materiale, si deve cercare di complicare. Dunque, lui, giocando G5, prova un po' a complicare le cose. E io gioco G3. Presa, presa. Re H8. D5. Qui ho deciso di attaccare subito, però forse un po' avventata. Avrei potuto fare semplicemente donna F2, con idea donna H4, per fare la stessa cosa, senza sacrificare un bel nulla. Di regola, se possiamo attaccare senza sacrificare è meglio. E questo è il motivo per cui donna F2 era ovviamente meglio. Io però ho giocato D5. Scacco. Torre 5. Donna G3. Qui prendo di pedone. Adesso l'idea è che... Se il pedone D5 non è attaccato, potremmo fare torre G1. Dunque ho giocato cavallo D4. Perché se mangiassi il pedone, arriva torre G1 e il cavallo, diciamo, non lo può difendere più. Ci mettiamo che prende, no? Io faccio torre G1. Il cavallo non si può prendere che c'è matto. Se fa questa, cavallo F5 e perde perché il cavallo non può essere difeso. Ora, in questa posizione che vedete, dopo callo D4, il mio avversario in realtà ha perso per il tempo. Anche se comunque la posizione è vinta per il bianco. Perché in realtà abbiamo pari materiale, però il suo re è messo peggio. E mi dà tantissime ritorse tattiche. Oltre anche a potenzialmente un buon finale. Perché il pedone può avanzare sulla conna C. Dunque, questo ci dà davvero tante possibilità. Questo è il terzo turno. Sì, 30 secondi, non 30 minuti. Sì, diciamo che la cadenza di gioco era 90 minuti, più 30 secondi in mossa, più 15 minuti dopo le 40 mosse. Qui siamo ancora al 36esimo, dunque al buono non ci siamo arrivati. Però se 90 minuti più 30 secondi in mossa fosse arrivata la 40esima, per se si sarebbero raggiunti i 15 minuti. Allora. Ah, c'è Salvio che mi chiede la partita con Pennica. Io ci vengo a precisare una cosa, ecco. Perché poi sembra, cioè perché poi sembra quasi che io sia rispondo a delle richieste. La prossima partita sarà la partita con Pennica, che Salvio mi ha chiesto. Ma non perché me l'ha chiesto Salvio, ma perché semplicemente è la prossima in ordine di turno. Dunque, ci vengo a precisare questa cosa. Detto ciò, andiamo alla prossima partita. Ma secondo me lo fa apposta, secondo me sai turni lui, e lo fa apposta secondo me, perché non c'è altra spiegazione. Allora, dunque. Quarta partita ragazzi, quarta partita, incredibile. Ragazzi, incredibile, non so se state leggendo. È un errore qua. Non so se lo leggete, dovrebbe essere, forse non lo è. Però, cioè ragazzi, qua c'è cosa che non quadra. Ah, comunque io devo ruotare la screcchiera. Perché io vedo il Nelo. Qua? Ok, farò. Non so se notate quale potrebbe essere la cosa strana, diciamo. Sì, chiaramente Paolo ha subito colto il bug, incredibile ragazzi. A quarto turno. Quarto turno, ragazzi, partita importante. Ragazzi, diciamo comunque le cose come stanno. Non c'è più rispetto, ragazzi. Cioè, ora uno ha un maestro che deve fare un torneo, e gli avversari vogliono vincere. Cioè, non va bene sta storia. Cioè, non va bene. Dunque, io la partita la vediamo, però, diciamo, puntualizzando questa cosa, ecco. Cioè, diciamo che è una cosa poco rispettosa. Diciamo, questi ragazzi che addirittura vogliono pure vincere. Cioè, non lo so. Comunque. Vediamo. Vediamo la partita come è andata. E allora. E4. Cioè, ma riposatevi e giocate gli altri turni. Che senso che vi impegnate? E poi, magari, voglio dire. E4, E5. Cavallo F3. Cavallo C6. Dunque, partita di Re. Alfieri C4. Alfieri C5. Arocco. Cavallo F6. D4. Dunque, qua il bianco gioca un bel gambetto. Chiamato gambetto Deus. In cui, diciamo, sacrifico un perdono per l'iniziativa. E, a questo punto, dopo... Perché c'è il bug all'infinito? Ah, perché devo fare qua... Ok. Dunque, io prendo il pedone. Qui è meglio prendere gli alfiere. Se qualcuno la gioca, vi consiglio di prendere gli alfiere. Perché, in pratica, prendendo gli alfiere, avete un maggior controllo. E, dunque, lui prende. Io prendo di cavallo. Anche, qua meglio prendere di cavallo, perché se prende di pedone, magari, lui potrebbe poi spingere. Creando problemi. Dunque, la cosa di cavallo è un po' più precisa. E qui il bianco gioca l'alfiere G5. Creando, diciamo, pressione sul cavallo che ha inchiodato. H6 cercano di cacciare via l'alfiere. Il bianco fa l'alfiere H4. Domanda al pubblico. Cosa fareste con venire in questa posizione? Vediamo un po' cosa fareste. Per esempio, a nonno, orrei poi... Gli dà fastidio di inchiodatura. Dunque, chissà cosa farebbe. Siamo curiosi. Diciamo che il G5 è la mossa che spera il bianco. Perché sarebbe qui un errore, in pratica. È la mossa che spera il bianco perché se fate G5 subite il contraattacco che è F4. Questa è una bella mossa F4 perché in pratica se catturate adesso l'alfiere c'è F per E5. Uno dei due cavalli sarà perso per forza e a quel punto diciamo che non riuscite a fare... Cioè, nel senso che il bianco si riprende il pezzo e in più a parte tutta la posizione con il nero che è messo davvero male. Dunque, questo è un po' il problema che si rende in questa posizione. Dunque, il G5 diciamo che non la possiamo fare perché... Lui vuole fare comunque F4. Diciamo che su quasi qualsiasi mossa deve fare F4. Dunque, lui vuole fare F4. Qui gioca una mossa precisa molto insidiosa che è Donne7. Che è la mossa migliore per il nero. Perché l'idea è che se lui giocasse verso F4, possa provare a contraattaccare giocando Donne in C5. Creando minacce sul re, sull'alfiere. Dunque, mi accontento di giocare una partita molto, molto dinamica. Però, diciamo, minaccio concretamente di guadagnare materiale. Dunque, qua noi sappiamo, in teoria, la sua idea di fare F4. Sapendo che lui vuole fare F4, è una buona idea qui per andare a giocare da reggine 7. Che è la mossa che ho giocato in partita. Lui qui ha giocato R1, che è un errore. E qui ha giocato G5. Adesso ovviamente G5 va bene, perché se lui fa F4 adesso, perde semplicemente l'alfiere, perché su F per E5 questa volta la donna cattura difendendo praticamente tutto. Insomma, a volte bisogna vedere se è possibile una sequenza di mosse anche con lo stesso pezzo. Beh, sì, in teoria sì, perché diciamo, alle volte può anche capitare che devi muovere lo stesso pezzo più volte per ottenere un vantaggio. E dunque, chiaramente, sì. Allora. Dunque, donna E7. È utile perché da un lato difende il pedone, abbiamo diverso, ma anche perché minaccia eventualmente la donna C5. Dunque lui sbaglia, G5, affida di G3. Qui commetto un gravissimo errore, perché qui in realtà la posizione sarebbe già stravinta per il nero, perché potrei mangiare il pedone in E4. Ho praticamente preso due pedoni in apertura, potrei cambiare il cavallo sull'alfiere. Dunque il bianco non ha praticamente nessun controgioco, perché se giocasse Torre 1 io mangio, lui anche se gioca così posso mangiare tranquillamente, dargli scacco, dunque diciamo che così sarebbe stravinta per il nero. Dunque, nonostante io potessi già alla mossa praticamente 10, fare cavallo per le 4 in danni di posizione stravinta, ho detto no, ragazzi, cerchiamo di giocare anche per lo spettacolo, cerchiamo di fare mosse che tengono la partita aperta, e dunque ho giocato D6. Ecco, che ovviamente non ha senso perché ho ripetuto semplicemente mangiare un pedone. Il bianco gioca a C3, il cavallo si deve giustamente ritirare, e poi il cavallo F4, una buona casa per il cavallo, e a quel punto F3. Alfiere 6, donna B3. Domanda, domanda per voi. Perché è rimasto, perché non si è addormentato. Ragazzi, io dico, non è possibile che dopo un'ora di spiegazioni già la gente si addormenti, cioè è una cosa assurda, cioè voi dovete resistere 3, 4, 5, 12 ore, cioè noi potete fare... Cioè no, potete fare i tornei che non resistete neanche un'ora a queste spiegazioni, soprattutto di classe, soprattutto, ecco. Cioè voglio dire, con molta modestia sostanzialmente. Con molta modestia, però, voglio dire. Comunque, voi muove il nero, vanno dalle cianci, muove il nero, voi che cosa fareste con il nero, considerando che avete un potere in più, ragazzi. Dunque il nero ha un potere in più, non ce lo dimentichiamo. Eh, le assistenti sono andate al mare, diciamo qua, fa caldo e... si sono licenziate tutte. Dice, la paghera... diciamo, la mentele, eccetera, dunque, però... allora, allora... c'è un po' di sì. Ah, adesso mi dice la nostra precisa. Cioè, ragazzi, qua siamo... E poi c'è una risposta che non c'entra niente. Ma perché io che... Cioè, ragazzi, ma perché... Io che sto alla nostra, perché cosa c'entra se... come la costella, ragazzi. Ma è un pezzo degli scacchi. Ma quali provinciali, scusami? Cioè, diciamo... Non so quante provincie c'è in Italia, ragazzi. C'è solo tante provincie. I provinciali? Si, qua il tour dei provinciali. Faccio il tour dei provinciali per tutti gli anni. Maestro in tour. Esatto. Ma forse... La semifinale di quei provinciali. Esatto. Ma forse dici quelli giovanili? No, non credo. Ma dice Palermo, lui. Si, ma c'è in provinciali giovanili a Palermo. Lui, essendo 0-6, giovane, dunque, probabilmente, lui gioca i provinciali giovanili. Però, a me non me li fanno giocare, ragazzi, dunque. Allora. Comunque, bravo a nonno Robo che ha detto la mossa che ho giocato io, che però è sbagliata. Ecco, visto. Ragazzi, adesso mi scriveva la mossa giusta qua. Ma guarda, che devo fare? Mi devo ritirare? Sto cercando di controllare i commenti, ma qua nessuno mi scrive la mossa giusta, in pratica. Cioè, B7 è stato... B7, Paolo, B7 non si può fare. Cioè, semmai forse dici B6. Cioè, comunque, c'è B7 in presa, ragazzi. Dunque, non vediamo che c'è B7 attaccato. Capire un po'. C'è la torre B8, dice, ok? No, ma non è buona la torre B8, purtroppo. La mossa più forte è a Roccolungo. E a Roccolungo, perché in realtà... C'è il succo che dobbiamo difendere il pedone, in pratica. C'è il succo che il nero deve difendere il pedone. Allora, per difendere dobbiamo due modi. O B6, che tutto sommato ha senso. Non sarebbe così brutta da giocare. Però penso la migliore sia a Roccolungo. Non è un problema il re, perché tutto sommato possiamo cambiare gli alfieri. Possiamo poi avanzare con il pedazionato di re. Che ci dà un buon gioco. E il nero si deve nel suo pedone, bello bello, e sta più che bene, direi. Questa è un po' la logica della situazione. Io tuttavia ho giocato C6 che è sbagliata, perché in pratica gli permetto di giocare alfiere per, pedone per, alfiere per, e qui devo prendere per forza di cose di pedone, perché prendo di don, prendo il pedone. E dunque diciamo che la mia struttura diventa un po' vulnerabile. un po' vulnerabile, e non ho zone sicure da varroccarmi, perché comunque sul lato di re è un po' aperto. E dunque poi la partita si evolve con questo tipo di gioco. Tore C8. Beh, comunque è una grande soddisfazione fare le mosse sbagliate del... di me medesimo, scusami. C'è una grande, una grande soddisfazione giustamente. Come il mio re ovviamente come vedete si mette non benissimo, tuttavia mi difendo decentemente, direi. Cioè mi difendo bene. E qui importante è la mossa E4. Questa mossa è importante perché lui attacca due volte E5, lo vuole catturare per attaccare il mio re, io gioco E4 per chiudere la colonna. E devo buona strategia, così il mio re è un po' più al sicuro. B4 prendo, cioè prima faccio re G7 per evitare eventuali scacchi. Prendo, cavallo D6, donna C5. Cambiare donna ovviamente mi conviene a me perché sono in vantaggio. Lui gioca a scacco, giustamente, reggi 6, donna 6. Cioè allora, scusami, donna 6. Allora immaginiamo qua, mossa al nero. Vediamo un po' cosa si può fare qui. Ah, c'è un commento da parte di Salsan che dice, Alessandro Saldati, lei ha sempre affermato che non sbaglia mai quando gioca a scacchi online, ma che è colpa dei bug. No, io non do la colpa a nessuno innanzitutto, dunque non mettetemi cose in bocca che io non ho mai detto, io non do la colpa a nessuno. E' ovvio che le mosse che gioco io sono sicuramente le migliori a livello di classe, ecco. Poi ci sono altre mosse che ci sono altre che dicono che vanno bene o meno, io mi dissocio e basta, cioè il punto è quello, cioè mi dissocio a priori, ecco. Mi dissocio anche dalle mosse. Mi dissocio dalle mosse, ecco. Allora, mi dovete dire un possibile blunder, una possibile svistra in questa posizione. Cioè, voglio sapere da voi anche avere questa mentalità del blunder, ragazzi. Voglio sapere se mi dite un possibile blunder che potrebbe essere giocato. Eh, ma non lo rep, tu intendi che la tua mosse è un blunder o che è la mosse giusta? Non confondiamoci. No, cavallo, per i quattro perdi perché ti fa... Eh, cavallo per i quattro perdi. Eh, perché, perché, perché? No, mi hai inchiodato il cavallo, scusa. Come fa cavallo per i quattro si è inchiodato? Cioè, ragazzi, ma... Cioè, non ho detto i blunder, cioè, non ho detto mosse illegale, non ho detto possibili blunder, cioè. Eh, Torre, ci sei un blunder perché c'è donna per... donna per doppio. Dunque, intendevo questo blunder, io. Un possibile blunder che potreste fare, Torre, Torre C6, in pratica. E non so se, non ho detto che pensavo fosse la mosse giusta o perché fosse la mosse sbagliata. Ah no, lui pensavo fosse quella giusta, ok. Ciao, Stefan, benvenuto. Sì, però ragazzi, io dico blunder di classe, non tipo blunder donna G1. Cioè, bravo, donna G1 è ovvio che è un blunder perché è in te la donna impresa. Però Torre C6 fa un blunder di classe perché gli permette a lui di farti fare il tatticismo, no? Cioè, noi cerchiamo questi blunder qui, in pratica. Allora, donna G6, io ho giocato Torre D8. Beh, qui dobbiamo fare Torre D8 perché minaccia sempre cose come cavalle 7. Dunque la Torre D8 deve essere in qualche modo tolta. E devo anche impedire che entri la Torre in D6. Donna B6, giustamente non deve cambiare. E qui commetto il mio blunder, ragazzi. Sì, sì, purtroppo ho fatto una mossa che purtroppo non va bene. Per lo spettacolo, ovviamente, non perché io volontariamente abbia sbagliato. Cioè, ci mancherebbe, cioè, l'ho fatta per lo spettacolo. Vediamo se la vede per, diciamo, rendere il gioco più allegro. E la domanda è qui, intanto, qua è la mossa giusta? E quale sarà stato il mio blunder? Questa è la domanda che vi faccio. Nel frattempo io faccio una piccola pausa e ritorno a 3 minuti. Dunque, muove ovviamente il nero. Grazie. 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 Grazie a tutti. Dunque, dunque, allora torre, 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 ok, la cavallo G4, era una proposta, cavallo G4, sto pensando anche che mi sembra troppo per il sommo, ma che vuol dire, ma mi sembra, mi sembra troppo per il sommo, ma che cazzo, che razza di commento è? Vabbè, ci passiamo sopra, solo perché devo leggere altri commenti e non voglio perdere tempo, G per H4, altrimenti H5, il blando potrebbe essere cavallo per E4, perché segue 3 per D8, 3 per D8, H5, cavallo per G4, vabbè, comunque ragazzi, commenti un po' scarsi, ve lo dico con sincerità, perché qua facciamo live serie, dunque noi diciamo sempre la verità, dunque i commenti abbastanza scarsi, però diciamo, va bene uguale, allora, detto ciò, il punto è il seguente qui, il mio re è messo male, però ho vantaggio materiale, perché io ho dubito di più, dunque, se io mi difendo, vinco probabilmente, il punto è che il pezzo più pericoloso del bianco che può creare problemi è la sua regina, se la sua regina la tengo lontana, probabilmente vinco, se la sua regina riesce a rendersi pericolosa, rischio di perdere, questo è un po' il succo del discorso in breve, dunque dobbiamo capire dove la sua regina potrebbe andare per crearci dei problemi, il punto è che al momento non può andare da nessuna parte, dunque al momento non abbiamo nessun tipo di problema, perché qui non può andare, perché c'è la donna, qui non può andare perché c'è lei, qui non può andare perché c'è il cavallo da tore, qui non può andare comunque perché ci sarebbe il cavallo a coprire, dunque, il punto è che al momento la sua donna non ha case d'entrata, se noi queste case d'entrata gliele diamo, ovviamente possiamo avere dei problemi, dunque il mio errore è che è stato che ho fatto donna b7 per pressare su e4, però al fare questo gli ho permesso di entrare, e da vinta la partita diventa persa in pratica, data la vittoria si passa alla sconfitta, la mostra giusta sarebbe stata invece tore h e 8 per coprire meglio questa casa, così che se lui cambiava per esempio le tori, noi potevamo riprendere i donna, e tutto, e tutto diciamo finisce sostanzialmente lì, senza, senza problemi, questo è un po' il succo del discorso, vabbè arrivano sempre i commenti retici, arriva il commento, sommo ma lei deve diventare gemmi, mi combina una certa sciocchezza, intanto il sommo fa questo per lo spettacolo innanzitutto, cioè non è che io posso andare a tornei per vincere e basta, c'è bisogno anche creare un po' di suspense, un po' di incertezza, e grazie a questa sconfitta si è creata una bella incertezza nel torneo fino alla fine, cioè nel senso, sennò che c'è per forza, non è che, ci vuole stile ecco, voglio dire, ehm, si, si, un callo g4, più alto perché non faccio niente con un callo g4, dunque, dunque vediamo come è finita, dunque donna b7, donna e6, io gioco donna b6, per quel punto c'è scacco, re h5, scacco, re g4, donna b3, lui qui ha ripetuto le mosse, poi alla fine però giustamente ha capito che potrà darmi matto, ho fatto g4, devo prendere, lui mi do scacco, devo andare via, poi quello di bra è molto preciso, scacco di cavallo, devo andare via, poi c'è donna b3, con cui mi dà matto alla fine, questo è un po' il succo del discorso, diciamo, il tema chiave era l'entrata di donna, se la donna entra, diciamo, il bianco vince, se non entra, probabilmente vince il nero, questo è un po' il succo del discorso, che è interessante rispetto a questa partita. Passiamo alla quinta partita, al quinto turno, dove gioco contro Adalberto Cino, che è un candidato maestro molto giovane, credo 17 o 18 anni, all'incirca, e vediamo, con la mossa di cavallo, in che senso, ah penso se giocavo cavallo g4, cioè se giocavo tipo questa così, e più che altro liberi lo scacco, e poi la donna può entrare in gioco, questo è stato un po' il problema, dunque, per questo comunque non è buono. Passiamo all'altra partita, contro Cino. Cino, 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 il bianco ha giocato D4, dunque sistema di Londra, C5, 3, calo C6, C3, E6, cavallo F3, calo D2, per D7, alfiere D3. Domanda, perché qua non ho giocato H3, ho fatto alfiere D3, permettendo al nero di fare cavallo H5? Questa domanda importante che vi pongo, vediamo chi sa rispondere. Perché ancora sveglio? Sì, mentre la domanda è perché ancora sveglio chi dorme, ci dissociamo da chi dorme, ovviamente, dunque mi voglio dissociare pubblicamente da chi sta dormendo, e ricollegare in questa live, diciamo. Venga, però, in effetti... Grazie. Grazie. Ragazzi, dipende dal piano. In base al piano cambia tutto, come vi ho spiegato precedentemente. Questa è una cosa importante che dovete cogliere, diciamo, da quest'oggi. Spero che questa vi sia un'illuminazione che vi possa essere utile. Perché diciamo, in base a come ha giocato il nero, in questo caso il mio obiettivo è più che altro attaccare su lato di Re. Perché il suo alfiere è rimasto dentro, e il mio alfiere in D3 ha vita facile, cosa che mi permette di giocare bene su lato di Re. Dunque, siccome il mio obiettivo è attaccare su lato di Re, non faccio H3. Perché, ripeto, tenermi l'alfiere in gioco serve solo se il mio piano fosse attaccare su lato di Don. E per questo, dunque, faccio alfiere D3 senza problemi. E comunque, se lui cambiasse in G3, mangio di H e la colonna H, comunque, può essere sempre utile per i miei scopi, diciamo. Dunque, portate sempre il piano, perché in base al piano cambiano le mosse che giochiamo, sostanzialmente. Il piano ovviamente diventa anche un po' da come sono messi i pedoni, da come sono messi un po' di pezzi. E questo è importante. Piede 7, donne 2. Donne 2, a questo punto, il nero giocatore è C8. E qui gioca una manovra importante che è D per C5. Alfiere prende C5 e poi E4. E4, diciamo che ha lo scopo di attivare i miei pezzi, o eventualmente anche di prendere spazio giocando E5. Lui mangia e poi spinge. E qui abbiamo una mostra importante. Gioco E5, perché giocando E5, in pratica, prendo spazio, però in cambio gli do, cioè mi crea una struttura pedonale debole in pratica. E dunque lui mangia, mangia, donna 5. Pedone C3 attaccato, al centro un po' debole, dunque decido di arroccarmi. Perché in pratica, roccandomi, rendo anche il pedone C3 avvelenato. Cioè lo prende a problemi perché arriva poi il torre C1 e diventa complicato difendere l'alfiere. E dunque il succo del discorso è che io prendo spazio sul lato di re giocando E5, però in cambio ho una struttura pedonale un po' più debole. Questo è un po' la logica della posizione. Lui gioca al filo E7, in quanto il pedone non poteva essere catturato. Torre B1 attaccando il suo pedone. Torre C7, cavallo C4. Arocco, torre D1. Torre in D8. Che mossa giocare qui? Questa è la domanda che ci facciamo. Allora, la colonnacca era buona per la torre, ma siccome la priorità in quel caso era comunque di avere una zona sicura per i re, dobbiamo alle volte rinunciare a qualcosa di buono per qualcosa di meglio. E dunque, sì, la torre sulla colonnacca era buona, però ci devi rinunciare per avere un re al sicuro, sostanzialmente. Devi prendere delle scelte anche dolorose alle volte, anche difficili. E questo è un po' la bravura nelle partite, in pratica. Si fa bene a segnarla, perché, cioè qua, ragazzi, solo qua diamo queste massime. Dunque, voglio dire, siamo nel posto giusto, perché queste massime le diamo solo qua, in pratica. Allora, dobbiamo dare via. E quando GM, quando mi danno il titolo, ragazzi, cioè, quando mi danno il titolo, divento GM, non è che ho un problema. Cioè, ora, siamo ad assurdo che mi devo fare pure i tornei io per diventare GM, ma dove siamo arrivati? Beh, bravo Paolo che l'hai ricordato, perché poi qua magari la gente perde la memoria e voglio dire... Ma siccome sei umile, non lo puoi ricordare ogni volta che sei... No, io non lo ricordo, però è giusto che lo ricordino gli altri, ovviamente, cioè, ci mancherebbe. Eh, ci mancherebbe. Si può dire che manco di umiltà, cioè, perciò qua, non l'umiltà in persona, comunque. Comunque, ragazzi, qui c'è una mossa molto bella, che è cavallo D6. Che l'ha suggerita a Salviu. E' molto bella, perché in pratica è una mossa che crea un sacco di problemi. Mi nasciamo B7, mi nasciamo la torne, mi nasciamo anche F7. Dunque, la mossa comunque ha tanti potenziali obiettivi, dunque quel cavallo D6 è molto forte. E il problema qual è? Che se il nero fa... mangia, il nero perde un'importante difenza del suo re. Cioè, questo alfiere, per il nero, è molto importante. E dunque lui, per esempio, in partita mangia, io mangio di pedone, e a quel punto lui gioca a donna 5. Però, ripeto, ha perso un difensore importante del suo arocco. Allora, mi chiede a seguito la PogChamp o il PogChamp che sia. No, in realtà ben poco, il minimo che potevo. Ho fatto una live in cui ho commentato qualche partita, però, diciamo, non è un evento che... Ma in cui ti ho guardato la PogChamp? Non lo so che ero visto che tu non mi dava? Sì, ma forse non vi... cioè, magari avevo visto qualcosa, ma non ho visto... Comentato qualcosa un giorno, però poi basta, cioè, non ho seguito... Non ho seguito molto la faccenda, anche perché di base non me ne frega altamente niente, diciamo. Quindi, come... diciamo sempre la verità, diciamo, senza mezzi termini, voglio dire. Dunque, donna a 5... Donna a 5... E' interessante perché, come vi dicevo, il suo arocco è totalmente... Cioè, è vulnerabile, non ha difensori. E questo lo paga a caro prezzo il nero, perché adesso arriva torre B5... La donna deve andare via, cattoli il pedone... Che mossa avrà mai giocato qui il bianco? Questo è un po' la domanda... Quale sarà la mossa che dobbiamo trovare? Allora, allora... Allora... Sì, sì, beh, donna a 4 che donna a 5 sarebbe impresa, dunque, chiaramente, il senso era chiaro. Sì, minacciando in realtà anche matto, che se tu mangi in H7, poi H8 diventa matto, non ci riesco a fare 1 e 2, e poi 3, do matto, perché il pedone copre l'eventuale fuga. Del re. Però la mossa più precisa è alfiere per H7, comunque andiamo subito a rompere il re. Quindi la verseria ha giocato re per H7. Allora, cavallo G5. Reggi 6. E dopo Reggi 6, cavallo G4, che praticamente vince la partita, perché crea un doppio attacco, minaccia la regina e contemporaneamente minaccia Matti Nuli in pratica. E... esatto. Beh, io prima, comunque, sul PogChamp ho fatto un commento, ho detto, ragazzi, seguendo già un'ora di PogChamp, ho perso minimo 100 puntiero, perché diciamo che, come si vuol dire, camminando con lo zoppo si impara a zoppicare, per così dire, no? Dunque, è importante guardare le partite dei giocatori, ovviamente, forti. Se volete, migliorare gli scacchi, voi se volete fare altro, sono altri discorsi. Allora. Forse è anche per questo che non mi hanno più invitato nelle dirette, dopo questa mia dichiarazione. Comunque, allora, dunque, cavallo G4, dunque, doppio attacco, minaccio la regina e minaccio, ovviamente Matti Nuli. Ma, dunque, lui, qui, cioè, potrebbe, in realtà, già qua, forse, abbandonare, gioco la donna e cinque, io lo scacco. E... deve andare via e... Mangio la donna e qui abbandona, perché comunque perderebbe anche il cavallo, perché sarebbe scacco. E con quest'altro doppio attacco finisce la partita in pratica. Qua, diciamo, il discorso è che... E... avere un piano in mente, puntare al lato di re, in questo caso, e, diciamo, togliere o avventure le occasioni, avere un buon equilibrio tra difesa e attacco, in qualche modo. Questo è un po' il succo che poi ha portato, in questo caso, ad una rapida vittoria. Questo è il turno cinque, dunque, mi porta a quattro punti su cinque nel torneo. Chiaramente, in classe via, c'era qualcuno che aveva più punti di me, dato che al quarto non avevo perso. E, dunque, andiamo al sesto turno, dove gioco contro Antonio Dannello, che è un giocatore prima in categoria nazionale. E, allora, io non capisco in base a cosa sceglie il lato su cui attaccare. E i criteri sono tendenzialmente quattro da considerare. Vantaggio di spazio, dunque, il controllo che hai con i pedoni, l'attività dei tuoi pezzi, quanti difensori hai avversari su quel lato o su quei punti, e poi, diciamo, le linee aperte, le debolezze. Questi sono più o meno i principi. Poi, ovviamente, devi essere bravo, in ogni caso, nella posizione specifica, a capire bene gli elementi, metterli insieme e prendere la scelta migliore. Però, i criteri sono quelli che ti ho menzionato. Andiamo alla partita, conto, dunque, gli annello. Io ho il nero. Dunque, lui ho già D4. Io ho D5. Beh, certo, chiaramente dipende da come si sviluppa l'apertura, dal centro che hai, e da quando sono sviluppati i pezzi. Per esempio, qui, in questa partita che stiamo vedendo adesso, che è la partita del sesto turno, contro gli annello. Quando, per esempio, gioco già D per C4, è tendenzialmente evidente che il mio gioco si sta basando un po' più sul lato di donna, dove ho, in teoria, per senso D4, un per donna in C4, eccetera, eccetera. Questo è un po' l'idea. Donna C2. Chiaramente questo è un elemento chiave, no? Che distingue un giocatore casual da un giocatore che è già un po' più di dimestichezza, no? Cioè il fatto di sapere dove stai puntando. Perché il giocatore casual è quello che vince solo se l'avversario gli regala qualcosa, in pratica. Mentre il giocatore già esperto è quello che riesce a pressare sul lato e guadagnare anche qualcosa a lungo termine con la pressione. Questo è un po' un elemento importante. A6. Vabbè, sai l'idea è che, praticamente, siccome appunto, come dicevo sul lato di donna, steccatore il pedone e gioco B5 e mi espando un po' con i pedoni per prendere spazio. Lui qua, secondo me, sbaglia perché gioca... Vabbè, qua trova bene, in realtà qua trova bene, in realtà sbaglia quando poi gioca adesso in maniera particolare cavallo C3. Qui invece avrebbe dovuto subito riprendersi il pedone in C4, perché comunque è sempre un pedone e va ripreso. Invece lui qua ha giocato cavallo C3, probabilmente pensava di poterlo riprendere dopo, cosa che però non accade, perché io si dupo il cavallo e... Oltre ad avere un buon gioco con i pezzi, ho, ripeto, il pedone in più in C4 che mi dà un ottimo gioco. Torre D1, regina B6. Nel togliere la regina crea anche una minaccia. Solitamente se possiamo fare mosse che difendono e attaccano al tempo stesso è buono, perché ci permette di guadagnare tempo. Dunque questa è l'idea di donna in B6. E4. Io pensavo gioca a C3 perché così magari tenere la posizione solida, però l'alfiere sarebbe stato bloccato. Invece dice di giocare me la più attiva per tenere l'alfiere libero di muoversi. Però a questo punto c'è cavallo B4, cavallo D3. Dunque il cavallo raggiunge il cosiddetto avamposto. Difeso dal pedone, minaccio F2 tre volte, deve per forza difendere. E a quel punto alfiere D7. Per cercare di sviluppare i pezzi e di portare più pezzi in gioco. Ora qui magari non è che c'è un piano, cioè non c'è un lato specifico, no? Perché è ovvio che io creo pressione sia da questa parte, sia sul lato di re. Dunque ovviamente il piano è sempre un'idea generale. Poi ci possono essere casi come questo, dove magari la pressione è da entrambe le parti. Perché la posizione è molto aperta e possiamo andare sia da un lato che dall'altro. Lui gioca E5, io gioco cavallo G4, che da un lato minaccia F2, dall'altro minaccia E5. Lui gioca cavallo E4. E qui c'è una scelta importante, ci ho pensato parecchio. Vediamo un po' voi cosa fareste in questa posizione. Con il nero, perché questa è una classica posizione dove ci ho pensato un po' non è secondo me scontata la mossa. Dite un po' la vostra. Siamo rimasti in un certo l'Ocona Ondra, tutti gli altri si sono addormentati? E' rimasto solo lui. L'unico, l'ultimo dei chattari o del... Non so come lo possiamo chiamare questa cosa, di che... L'ultimo, l'ultimo è basta, senza specificare niente. L'ultimo. L'ultimo dei viewers. Ragazzi, ma... F è B4, F è D4, F5. Quello D per F2. D per F2 per di un pezzo in pratica, perché non è abbastanza... Non è abbastanza controllo. Però nessuno ha fatto la... Ha detto la vostra giocativa, ragazzi. C'è incredibile. Cioè, nessuno gioca le nostre del SOM. Cioè, cosa devo fare qua? Come dico sempre, ci vuole equilibrio. Ci vuole equilibrio, ragazzi. Ci vuole equilibrio. E in pratica, il succo è il seguente. Il succo è ovviamente il bianco. Comunque, qualche piccola chance ce l'avrebbe, perché lui potrebbe provare a giocare tipo cavallo G5, cavallo per H6. Cioè, mettiamo che è tipo gioco non solo a mossa a caso. Mettiamo che faccia il fiere C6, per esempio. Lui potrebbe anche giocare forse cavallo G5. Attaccando il cavallo. Se tipo mangia, spresa, se mangi, scacco. Cioè, potrebbe anche giocare per il matto il bianco. Non è totalmente moribondo. Qualche chance il bianco ce l'ha e dobbiamo stare attenti. Questo è un po' il punto del discorso. E H6 indebolisce un po'. Io ho giocato semplicemente al fiere in al fiere in E7. Comunque, l'alfiere è un pezzo che vale più del suo cavallo secondo me. E in E7 funge bene al difensore. Lui ho giocato al fiere in E7 per evitare eventuali salti di cavallo. Lui gioca H3. Io mangio il predone, lui rimangio. E poi entriamo in questa posizione dove le tolgo la donna che era attaccata. Lui prova a portare la donna per attaccarmi, però ricordiamo io ho due pedoni di vantaggio adesso. E5 per attaccare la donna e ovviamente per evitare il matto che era minacciato. E qui al fiere C6. Quando abbiamo vantaggio materiale ci può ovviamente convenire cambiare i pezzi per togliere di mezzo eventuali problemi per bloccare il suo attacco e dunque ho giocato al fiere C6 in pratica quando lui gioca al fiere G5 cambio tutto e faccio H6. Con il da caccia della sua donna e l'equa direttamente abbandona perché ha due pedoni in meno e ho anche un cavallo forte e lui effettivamente non ha nessun attacco dunque effettivamente la posizione è abbastanza è abbastanza persa qui è una posizione in una partita dove il vantaggio materiale ha subito un po' condizionato la partita prima un pedone per un altro pedone poi tutto sommato a quel punto siamo riusciti a semplificare a quel punto per il bianco non c'è non c'è niente da fare io direi passare all'ultima partita ragazzi l'ultima partita decisiva decisiva perché nell'ultimo turno il mio avversario che era Andrea Musso un candidato maestro di Messina aveva mezzo punto di vantaggio dunque io avevo 5 punti su 6 lui ne aveva 5 e mezzo c'era anche Penny che ne aveva 5 dunque in pratica per vincere il torno avrei dovuto vincere la partita per forza e in più se Penny che vinceva avrei dovuto vincere poi per Buggles che dipendeva da altri avversari dunque la faccenda si faceva complicata e dunque la partita decisiva ripeto per vincere il torno dovevo vincere per forza tra l'altro vincendo il torneo ho vinto per la quinta volta consigliata regionale un record assoluto diciamo ovviamente solo il suo può fare questo era sottointeso sempre detto con grandissima umiltà e detto questo detto questo passerei alla partita io da bianco gioco e4 dunque come avete visto ho giocato sia d4 sia e4 in quest'ultima partita ho preferito giocare e4 nero gioca la difesa siciliana c3 si ma i soldati sono anche già scritti in realtà che ho scritto 1 a 0 per me dunque voglio dire non è che ci voglia la scienza per capire che il bianco alla fine vincerà questa partita cavallo f6 e5 cavallo d5 d4 preso in d4 cavallo f3 cavallo c6 c per d4 d6 alfiere c4 cavallo b6 alfiere b3 ora in pratica qua il nero cattura in e5 io spingendo in pratica vado a sacrificare in effetti un pedone perchè non riprende il suo pedone ma decido di prendere spazio per avere un gioco molto dinamico lui gioca cavallo a5 giustamente cavallo c3 prende il mio alfiere io riprendo di donna e poi gioca e6 e6 diciamo la mostra che serve in pratica per togliere il mio pedone d5 che è un pedone comunque sia che è abbastanza forte e dunque io sono decido di prenderlo cavallo c4 scacco di donna perchè mi riprendo il pedone che ho usato dall'inizio ripristinando l'equilibrio materiale io non avendo raccolto molto altro decido di rendere la posizione equilibrata con questa opzione alfiere b4 a rocco donna d5 cioè alfiere per pedone per donna d5 questa se non è una delle posizioni chiave è la partita ricordo ultimo turno partita importante bisogna vincere a tutti i costi voi cosa fareste qui con mossa al bianco questa è un po' la domanda che vi pongo adesso vediamo perché grazie a tutti i costi facciamo varie varie ipotesi varie ipotesi ah qui chiaramente sicuramente balzo subito all'occhio il discorso di provare a tenere le donne in gioco tornando indietro e provando un po' questa situazione qui però il problema è che sia donne 2 sia donne f4 non mi convincevano molto soprattutto perché l'alfiere non avrebbe avuto degli sbocchi facili e dunque ho deciso qua di cambiare le donne e provare a vincere nel finale dunque è una decisione davvero complicata difficile ho detto vabbè cambio le donne soprattutto le ho cambiate perché puntavo molto su questo scacco puntavo molto su questo scacco che crea comunque sia dei problemi perché il nero deve decidere come difendersi su alfiere 6 cavallo d4 abbastanza insidiosa su ref8 il sole va fuori gioco e la torina h8 rimane bloccata dunque tutto sommato questa torina è 1 e la classica mossa e qualche problema lo dà sicuramente lui qua sbaglia giocando re d7 era comunque meglio fare ref8 però era un gioco un po' più tranquillo giocando re d7 mi permette di creare il mio attacco giocando torre d1 lui ovviamente deve per forza difendere l'alfiere con il re dopo re c6 obbligata sullo scacco è obbligata re c5 per tenere sempre l'alfiere difeso e a questo punto torre b1 creando un muro sul suo re che non potrà più uscire dalla colonna c e minacciando anche torre b5 al che lui gioca giustamente a6 dunque il tema strategico di questa posizione è che abbiamo una sorta di finale un po' complesso dove con quattro pezzi in gioco con due tori più due pezzi leggeri il suo re è sicuramente messo male direi molto molto male però non abbiamo una mossa vincente immediatamente cioè non è che possiamo subito fare una mossa e abbiamo vinto la partita è una partita ancora tutta da giocare e un punto importante da capire qui è dove mettere il nostro alfiere non tanto dove metterlo adesso ma dobbiamo immaginare dove questo alfiere ci potrà essere utile in futuro cioè in un futuro dove questo alfiere campo scuro ci può realmente essere d'aiuto in base all'obiettivo che è quello di attaccare il suo re di sfruttare il fatto che è avversare una posizione sicuramente molto molto vulnerabile allora ma è possibile che ho pensato la stessa cosa che ho fatto non lo so cioè questa è una cosa una domanda importante che però preferiscono non rispondere eventualmente facciamo rispondere ad altri è importante non rispondere a tutte le domande che vi vengono poste questa è una massima che vi do ecco quando vi fanno una domanda ricordatevi non siete obbligati a rispondere avvaletevi senza problemi della facoltà di non rispondere questo è un po' il consiglio che vi do oggi uno dei più importanti di cui mi avvalgo ovviamente io in questo caso ragazzi per esempio vi ho detto dove mettere l'alfiere che c'entra il cavallo scusate voglio dire anche valendo che c'entra sono subversivi ciò parlo dell'alfiere parliamo del cavallo che discorsi sono boh ma no comment ragazzi no comment voglio fare polito che non ha scritto mai in vita sua vediamo per scrivere per rispondere diciamo ripetendo le mie parlole di la parole parole ecc ragazzi facciamo le persone serie cioè voglio dire qua stiamo facendo roba seria comunque il punto è il seguente che idealmente comunque la domanda no la domanda non c'è perché domanda non c'è una domanda il punto è il seguente l'alfiere come dice federic va in f2 in pratica dunque ho giocato alfiere g5 perché io devo attaccare il re in pratica e dunque alfiere g5 devo immaginare dove arriva no ragazzi ma non è che c'è nel senso le cose che dico io valgono per me non è che valgono anche per voi cioè cioè l'importante è quello che c'è nel senso comunque che valgono in altri contesti non in questo contesto qui ecco perché bisogna sempre contestualizzare a f3 g6 torre b4 torre b4 che comunque crea un po' di resanti con cavallo b3 potenzialmente dunque lui gioca cavallo d6 alfiere h4 e raggiungo diciamo lo scopo ad un certo punto di fare alfiere f2 sono solo palole palole beh ragazzi ma io giustamente devo anche diciamo dire alcune cose così per vedere se siete attenti perché purtroppo cosa succede io do dei commenti vi dico le cose giuste vi do dei concetti fondamentali voi dormite e che ci concludiamo nulla dunque alle volte mi tocca fare anche abbassarmi a sbagliare qualche palola così per vedere siete attenti ecco dunque comunque detto ciò siamo giunti la posizione con l'alfiere in f2 dove in pratica il punto è che il sole è messo parecchio male sì perché il sole è bloccato dunque il fatto di mettere questo alfiere qui è fondamentale cioè un elemento chiave della della partita a questo punto dopo alfiere f2 lui diciamo è costato a muovere in c4 qua mi sono perso che potrei vincere subito ho preferito vincere dopo diciamo ecco come si vuol dire per lo spettacolo no perché avessi vinto adesso sarei finito diciamo subito mentre portando la partita nel finale ho finito come ultima partita ecco così da avere maggior risalto risultato ecco dunque diciamo anche anche questo comunque la vostra vincente qui non ve la dico dite me la vuoi che mossa deve fare lui anche per vincere beh si bisogna anche guardare content giustamente cioè non è che si che vuol dire mangio in uno no mattino che c'entra mattino dico vincere guadagni materialo dai matto anche in diverse mosse mattino questo mattino era troppo scondato no beh non lo perde perché ovviamente il cavallo può essere può essere difeso no A parte che non puoi dare schiacco di cavallo dunque Allora la mossa vincente era cavallo c2 No lui ha detto cavallo c2 Per il tuo cavallo c2 se prende scacco Si va qui matto E finisce tutto qui Tutto finito per così dire Dunque non c'è niente da fare e tutto è finita Se invece gioca altre mosse Cioè mettiamo tipo gioca una mossa a casa Metti che facca i 5 C'è tipo scacco Se prende A parte che c'è cavallo in preso Cioè mettiamo che fa tipo cavallo f5 no? O cavallo b5 E fai a4 Si Si diciamo che comunque Se mangio ci matto subito Se fa mossa a casa così Ci matto anche magari dopo Magari mangio il pedone Poi minaccio matto con alfiere 1 Dunque diciamo ci sarebbe sempre qualcosa del genere Io però non l'ho giocata E ho giocato cavallo e2 Che guadagniamo materiale Però non è vincente immediatamente Perché lui fa cavallo b5 A4 Torre d8 E devo togliere la torre Perché se no Ovviamente mi entra in d1 Ho il tempo di togliere il cavallo Però guadagno un pedone Se mangio adesso l'alfiere C'è mattinuna Quando qua l'alfiere non lo può mangiare Deve fare questa Scacco E qui vado un po' a semplificare Per giocarmi il finale Ripeto un pedone in più Dopo tutti questi cambi Comunque mantengo il mio pedone di vantaggio Ed entriamo in questo finale Dove Io ho tre pedoni contro due Però il fatto che il suo re sia fuori gioco Fa sì che il finale sia praticamente facilmente vinto Da parte mia Infatti Prima di sviluppo migliori il cavallo Poi Attacco il pedone ovviamente Lo scacco per allontanare il suo re Si sono tutti da un lato Però il suo re non c'è Cioè nel senso se il suo re fosse magari qua Potrebbe essere difficile da vincere Ma se il suo re è fuori gioco Anche se sono tutti da un lato È vinta facile uguale Perché Il fatto che il suo re non possa difendere i pedoni È decisivo come Come elemento Qui erano il cambio di tori Ci ho pensato un attimo Ho visto che Era vinto anche il finale Con il cavallo Dunque ho cambiato È qua il punto di attivare i primi re Per arrivare i primi posti bene in g5 Così da costringere lui ad andare in f7 E poi il prossimo passaggio Quello di fare f4 F5 Ci mettiamo lui fa tipo re g7 Il finale è facilmente vinto Perché noi facciamo f5 Lui deve mangiare Mangio di cavallo E poi semplicemente il cavallo verrà manovrato in f4 E il pedone anche 5 è perso Non avrà mai mai modo di difenderlo È per questo che Il finale è vinto Che poi due pedoni e cavallo contro alfiere Si vince Agivolmente Nella mia partita Nella mia partita Lui ha giocato h4 Però io ho mangiato semplicemente il pedone E poi in realtà qua Ha perso direttamente per il tempo Però ormai il finale è facile Da trasformare Perché andremo sempre in un finale In cui il bianco ha due pedoni E cavallo contro alfiere Che è un finale Sempre diciamo Stravinto Questo è un po' L'ultima partita Che mi ha permesso di diventare Per la quinta volta Diciamo Per la quinta volta Consecutiva Campione regionale siciliano E E niente Mi toccherà quest'anno Provare a vincere anche il titolo nazionale Dunque magari Ci proviamo Vediamo un po' che succede E vediamo un po' cosa Cosa accadrà E Allora Allora Detto ciò Spero Che Tutto sia stato molto chiaro Molto molto preciso Che abbiate Avuto modo di Cogliere Qualche idea nuova Utile per i vostri scacchi Vi ringrazio Per l'attenzione E Facciamo un ride Facciamo un ride Provare a Come se non fosse già certo La modesta Ragazzi Io giustamente Devo essere modesto Perché Mi impongo Diciamo Come vuol dire Le Un po' la storyline Ecco C'è la storyline di essere modesto Dunque devo essere modesto E questo qua Allora Dunque Allora Dov'è? Ah qui Questo qui Giusto Guarda Guarda Cosa fa C'è una la Un ride C'è qualche domanda Seria Io potrei anche rispondere Al frattempo Al frattempo Vediamo Ah se si vincono Di tornei Sì diciamo che Nei tornei Diciamo Più i tornei sono importanti Più si vincono soldi Ovviamente Dunque Come Si si è un basso silenzioso Poi ragazzi C'è qualcuno Che ho perso Qualche partito Ho concesso Qualche vittoria Venosa Ben diversa Dunque Ma per la mia Ovviamente Somma Somma Bontà Vabbè Ma è italiano? No stranieri L'italiano non c'è nessuno Ma comunque facciamo ride Gli italiani sono tutti a mare Di controllo Sì vabbè Se non c'è un'italiano Facciamo un ride A una ragazza straniera Che sta giocando a scacchi Ovviamente ragazzi Qui facciamo solo ride serie Non facciamo brutta figura Ovviamente Ringrazio ancora a tutti Per aver seguito Questa live Cerchiamo di fare Qualcos'altro di simile Nel prossimo futuro E Una buona giornata a tutti E una buona domenica a tutti Ciao ciao Grazie a tutti Grazie a tutti